Buon pomeriggio innanzitutto e buon pomeriggio Piero Angela. Posso chiederle quante lauree onoris causa ricevuto? Quella di domani è la dodicesima, è una collezione. Io vorrei dire due cose su queste lauree che tra l'altro hanno titolo legale, forse se facessimo un concorso da vigile urbano avrei un punteggio altissimo. Le manca il dottorato? Dovrebbero darle un dottorato a questo punto? Ah, sì, ha avuto 11 lauree e un dottorato. Ah, ecco. Ecco, sì. Ma diciamo, senza stare a fare questi... È in realtà un riconoscimento della comunità scientifica del lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto, perché queste lauree le prendo io, ma le meritano tutti i collaboratori che in questi tanti anni hanno lavorato con me alla RAI, ma anche fuori. Quindi è importante, perché a parte le soddisfazioni ovviamente di avere queste medaglie, c'è il fatto che quando si fa divulgazione, tu lo sai perché fai questo mestiere, necessariamente bisogna semplificare, perché altrimenti non funziona. È importante semplificare bene e quando la comunità scientifica ti dà questi riconoscimenti vuole dire che mette il timbro sopra, vuol dire si stampi, si ascolti, si veda. E questo per noi è importante perché ci incoraggia anche a fare sempre meglio e a sapere che la divulgazione ha comunque una sponda importante di supporto, che è la comunità scientifica. Quindi 12, anzi 11 lauree e un dottorato. Io per correggere Pietro che mi ha laureato, in realtà ho studiato filosofia, ho fatto tutti gli esami, ma non ho dato la tesi perché bisogna essere rigorosi nella comunicazione. A parte questo parleremo di semplificazione, parleremo anche tra poco di come negli anni del suo lavoro di giornalista scientifico, questo tema è stato oggetto di dibattito sui giornali, su cosa significa semplificare. Però prima le volevo fare una domanda un po' stupida forse. Cioè lei è uno straordinario testimonial della scienza, è uno dei personaggi della cultura italiana più conosciuto, più apprezzato e più amato in Italia. E tra l'altro lei è amato in modo trasversale, per età, per genere, per tutto. Eppure noi in questo paese lamentiamo una certa distrazione per la cultura scientifica, no? Lei si è mai chiesto questa contraddizione dell'essere così amato, così apprezzato e poi però trovarsi di fronte a un paese che fa fatica ad acquisire una... Ma me lo chiedo anch'io. Ecco, ecco, che idea si è fatto? Ma qui, indubbiamente, nel mio lavoro c'è stata una personalizzazione della divulgazione, cosa che la RAI, cioè il mezzo televisivo, esalta. Perché intanto dammi del tu, perché siamo colleghi... Questa è l'abitudine che alla RAI... Ma perché io ho avanti anni, lei ho avanti anni. Allora, c'è certamente una personalizzazione. La seconda cosa è che io ho sempre cercato di fare dei programmi che permettessero al pubblico veramente di entrare dentro questo bellissimo mondo della conoscenza. Ti faccio un esempio che mi è rimasto molto impresso. Quando ho scritto il mio primo libro, io ho scritto di 39 libri di scena, tutti gli argomenti... Sono numeri importanti, 12 lauree onoris causa e 39 libri. Tenete in mente che poi... Quindi ho lavorato tanto. Quando ho avuto nelle mani il mio primo libro, che è stato un momento di grande noia, L'uomo e la marionetta, ricevete la lettera di una signora di Varese che mi ringraziava per... Dice, finalmente io leggendo il suo libro ho capito. Sono un'appassionata di questi argomenti, leggo, però a un certo momento c'è la nebbia e non riesco a avanzare. Mi mancano un po' i punti d'appoggio. Allora io le ho risposto in questa lettera, lei aggiungeva, cosa importante. E questo è successo perché il suo libro è scritto in modo piacevole e scurrile. Allora io ho risposto a questa signora che mi ha poi riscritto. Era una persona intelligente, curiosa, che non aveva potuto studiare, ma ha fatto la quinta elementare perché la famiglia l'aveva mandata a lavorare. Quindi faceva l'infermiera, ma brava, era una persona di qualità. Però le mancavano le chiave del linguaggio. E io lì ho capito che c'era... Poi parliamo di tanti anni fa. L'Italia era un paese anche meno istruito. Si andava a meno scuola, comunque ci si fermava prima. Però tanta gente curiosa, intelligente, appassionata anche, che veniva esclusa dal sapere perché gli mancava lo strumento, il linguaggio, di poter entrare. E questo mi ha colpito molto. Allora da allora mi sono... Ma già da prima. Perché in fondo chi fa divulgazione tende a farla anzitutto per se stesso. Cioè vorrei capire, ma è chiaro se... E allora io ricordo la prima cosa, primissima, che ho fatto di divulgazione scientifica è quando ho cominciato a lavorare alla radio che mi hanno chiesto di fare a Torino, io sono torinese, mi hanno chiesto di fare un documentarietto radiofonico sulla Valle d'Aosta. Ah, la Valle d'Aosta perché... In generale. E tra queste varie cose, in Valle d'Aosta ci sono tante cose. Ci sono le centrali idroelettriche. E io ho spiegato come funziona una centrale idroelettrica. E la cosa mi ha soddisfatto molto. Dico, tiè, ho trovato gli esempi giusti. E questo è il punto. Voglio trovarti gli esempi. E se tu hai l'esempio azzeccato, tac, si illumina la lampadina. È questo che bisogna fare col pubblico. Per accendere il cervello della televisione. A casa. Non solo la televisione. Si accende anche il cervello. E allora hai questi risultati. Torneremo a parlare anche di come le persone negli anni della sua carriera hanno commentato e seguito la sua carriera. Ma se oggi lei dovesse dire in che cosa è differente l'essere un giornalista scientifico in quegli anni in cui l'Italia era meno istruita, aveva, come dire, un rapporto con la cultura più, anche reverenziale in qualche modo, e oggi, oggi noi parliamo di fake news, parliamo di social network, di internet, il ruolo del comunicatore scientifico, il giornalista scientifico, è cambiato per lei? Per quanto mi riguarda, no. Devo dire che se io leggo i miei libri dell'epoca, li scrivevo allora come oggi. I programmi televisivi, lo stesso. Beh, certo, poi col tempo ci si affina, si inventano, ci sono anche delle tecnologie. La grafica, in particolare col computer, si è aperto un mondo nuovo per la grafica. E se ne è spento purtroppo un altro, perché c'è stato un momento proprio all'inizio del programmi televisivi Quark, sin del primo anno, io ho fatto con Bruno Bozzetto tanti cartoni animati e purtroppo, non so se qualcuno se ne ricorda, pensi che abbiamo fatto 45 cartoni animati di scienza di 8-10 minuti, il che vuol dire l'equivalente di 7 film di cartoni animati. I cartoni animati bisognava disegnare fotogramma per fotogramma, un movimento doveva essere, bisognava colorarli a mano uno per uno e quindi era una tecnica che oggi diventerebbe troppo costosa e non si può fare. E questo è un grande peccato perché, tanto Bruno Bozzetto è un genio, e però io attraverso questi cartoni animati abbiamo spiegato tantissime cose. Faccio un esempio, ve lo dicevo proprio ieri a un collega con il quale stiamo lavorando, Paolo Magliocco, che lavora anche a Superquare, e si occupa del web. Tu sai, dice, abbiamo messo sulla rete un tuo vecchissimo cartone animato con Bruno Bozzetto, che era la ricerca degli antenati. Era una cosa carina perché partiva dal fatto che tu hai due genitori, ogni genitore ha avuto due genitori, a loro volta altri due, rapidamente ogni 300 anni moltiplichi per mille i tuoi, quindi arrivi agli romani e hai già un milione, poi un miliardi di cosa che non è possibile, perché sulla Terra si calcola, siano vissuti forse 100 miliardi di perciò, di Homo sapi, in tutta la storia. E quindi ne avremo ognuno di noi molti di più, che è un ventaglio che in realtà si chiude perché siamo tutti imparentati. Insomma, a parte quello, c'era fatto molto bene. Ma dice, sai, l'abbiamo messo sulla rete? Sai, da da poco, sai quanto ha già di visualizzazione? 2.800.000, 2.800.000, cioè queste cose qui funzionano benissimo ancora oggi. Lei va in rete? Usa i social? Lei usa i social network? No, io non li frequento, quei posti. Non le piace? Ma non mi diverte, io vedo il chiacchiericcio, Io navigo sulla tastiera, ma del pianoforte. Ah, ecco. È molto meglio. Prima di cominciare questa conversazione, Piero Angela parlava di musica con un musicista che è venuto a salutare, e diceva, nel jazz ci vuole lo swing, se non c'è lo swing. Nella scienza, qual è l'analogo dello swing quando uno racconta la scienza? Qual è? L'analogo nella scienza di quello che lei dice, lo swing, il ritmo nel jazz. E' difficile da dire, forse Cerentano potrebbe piegare. Nella scienza, lo swing, forse è la passione, la curiosità, il desiderio di sapere. E bisogna avere questo sia per ascoltarlo, ma soprattutto per farlo. Cioè non è un mestiere questo. Poi, certo, si possono imparare la tecnica, ma è una passione. Direi che quasi è una missione, in termini umili, di missionare, di propagare questa tecnologia. Guardate, è pieno di roba interessante, fantastica, che tra l'altro ci aiuterebbe a diventare un paese moderno. vedete, io quando vedo, poi se vuoi parliamo anche di politica, in termini, non di partiti, di corrente, di queste cose, ma qui, certo, fa parte della vita da sempre, in tutti i paesi. Ma il fatto che non si riconosca il grandissimo ruolo che ha scienza e tecnologia nello sviluppo economico, ma la competizione è fatta di innovazione, di idee, di ricerca, di nuovi materiali, di competitività, questa roba qui nasce nelle aziende, io faccio sempre l'esempio della Kodak. La Kodak era, chi ha i capelli bianchi, se lo ricordo, un impero. Noi abbiamo sempre la pellicola Kodak, la foto, è corollata, è fallita con l'arrivo del digitale. Se qualunque azienda non inserisce anche, magari in processi tradizionali, ma l'innovazione che gli permette di costare una lira, un franco, o un euro in meno, o farlo in meno tempo, o avere un cliente, in più, quello è il fuori mercato. Quindi, un paese che non fa questo, ti cito per esempio l'esempio della Germania, che la Germania, come l'Italia, ha una spina dorsale importante di industrie tradizionali, di meccanica, però sono un po' più grandi quelle, le nostre sono troppo piccole. Ma anche in Germania c'è molta imprenditorialità che non può fare ricerca in proprio, la può fare la Fiat, la General Motors, ma un piccolo imprenditore ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a fare quello che si chiama trasferimento tecnologico, fare divulgazione a livello di macchine. in Germania esiste un'istituzione che si chiama Frau Hofel, che assiste un imprenditore nell'innovazione e tu vai là e dici, senta, io ho questo problema, com'è che ti migliora? A pagamento, questo, ti mettono gli esperti che lavorano su un problema e ti danno una soluzione. questa roba qui esiste dal 1949. Allora, voglio dire, è un piccolo esempio, ma un paese che vuole aiutare la propria imprenditore, che è l'unica che poi ha la voce più, perché gli altri si spendono, qui si può dare. Non aiutare questo processo di innovazione in tanti settori, ma che poi riguarda anche la burocrazia, adesso c'è un tentativo di digitalizzare la burocrazia anche per contrastare la corruzione, cioè rendere più trasparente. Queste cose, se non si fanno, il paese si rimane indietro. Sai che l'Italia è l'unico paese europeo che ha la produttività ferma da vent'anni. La produttività non è la produzione, vuole dire che tu con gli stessi soldi, con la stessa energia, con gli stessi materiali, nello stesso numero di impiegati o di operai, fai di più o fai di meno. È l'efficienza la produttività. Come si va a non essere, a non progredire nell'efficienza? Forse noi non sappiamo parlare e formarci per il futuro. Noi usiamo molto la parola futuro nei giornali. Quando si parla di scienza si parla spesso futuro, si parla di medicina, di intelligenza artificiale. Poi però ci manca quella capacità di ragionare intorno al futuro. Noi oggi siamo quasi nel 2020, cioè è passato un quinto del nuovo secolo. In questi primi vent'anni c'è stata un'accelerazione incredibile in molti campi della scienza. Che cultura dovremmo avere, che formazione, che cultura dovremmo, come dire, coltivare, mi perdono, insomma, per poter affrontare e formarci per il futuro secondo lei. Ma vedi, anzi, vedi, perché c'è del tutto è una cosa contagiosa. Allora senta signora. Mi dica signore, anzi prof forse, maestro, maestro, maestro mi piace di più. Ah ecco, stai chiedi la cosa, una volta mi chiamo signor Angela, signor Angela la funziona male. No, signor Piero, perché è un po' come il signor Mike. Esatto, è come il signor Mike. È molto popolare. Poi mi ha chiamato dottore, poi professore, e mi fa molto piacere che sia la mia domestica ora in Filippina che mi chiama professore. Non l'ho mai contraddetta. Beh, con dodici lauree e professore diciamo viene da solo, ecco, è giusto. Comunque, siamo tutti professori, nel senso che insegniamo tutti qualcosa. Allora, questa è una domanda molto importante, questa. Il futuro, noi abbiamo una schizofrania in questo. Noi ci occupiamo molto del futuro quando sono cose che ci riguardano. Faccio l'esempio. Se uno si ha dei figli, investe su di loro, non solo soldi, ma investe in educazione, in istruzione, porta all'inglese, eccetera, non mette nelle condizioni migliori per affrontare il futuro. Ma senza spiegargli le cose di cui dicevo prima. Noi ci occupiamo del futuro quando abbiamo un'azienda, un negozio, un'attività, e il programma. Facciamo anche debiti, ma perché poi pensiamo che con l'attività possiamo pagare i debiti e sviluppare il lavoro o il progetto. Questo funziona quando si è a livello personale. C'è un bellissimo diagramma che apparve in un libro famoso I limiti dello sviluppo che tu ricordi ma che all'epoca io quello per me è stato uno di quei libri svolta senza entrare nei dettagli ma insomma mostrava che non si può crescere all'infinito che bisogna in qualche modo controbilanciare sia per l'ambiente ma per le risorse per le risorse energetiche ed è stato il primo libro che allora era un po' considerato e che però ha cambiato la filosofia del modo di vedere il futuro. Ebbene c'era un diagramma molto interessante erano con una specie di tavola pedagorica con tanti quadratini dieci dieci su allora il primo quadratino in basso a sinistra aveva tanti punti dentro ed era io e la mia famiglia mi interessa moltissimo oggi io e la mia famiglia oggi man mano che dicevi domani fra un anno nel futuro i pallini diminuivano man mano che tu dicevi nella mia città nel mio paese in Europa diminuivano la casella estrema il futuro dell'umanità era un pallino allora questo è comprensibile perché noi abbiamo un cervello che è evoluto non pensando al futuro pensando al presente e conta tutto quello che ci emoziona nel presente poi se vuoi possiamo parlare di questo che per quanto riguarda la comunicazione è molto importante ma ti faccio un esempio a non voler guardare nel futuro proprio questa mattina io ero a Roma stiamo registrando il programma nuovo Superquark prendete nota si comincia quante puntate sono fino adesso Superquark no fino adesso qualche Superquark perché abbiamo fatto 39 libri 12 laure dobbiamo fare dei numeri che poi noi guarda vent'anni fa abbiamo festeggiato le 2000 puntate vent'anni fa allora questa mattina ero in studio per registrare ah voglio dire 26 giugno Rai 1 mercoledì prima serata Rai 1 9 puntate mercoledì sera domando il giorno dopo vengo a vedere noi abbiamo tutti dati disaggregati riuscimo quasi a capire ma deve vedere sui social cosa succede quando lei va in onda ah lo so e adesso domani lei si tutti iscrivono hanno detto c'è un sito che è intitolato Piero Angela noi ti ubbidiamo non ti ubbidiamo o noi ti ubbidiamo noi ti ubbidiamo ah noi ti ubbidiamo sono devoti 170.000 persone dico facciamo la marcia su Roma quindi prendiamo il potere e cambiamo questa cosa che tu dici potrebbe essere pericolosa perché prima o poi qualcuno ti verrà a cercare con le tue milizie allora dicevo stamattina ero in studio col professore Antonio Golini il professore Antonio Golini è una persona che io ho frequentato ho frequentato professionalmente ogni tanto è un demografo che tu conosci e allora stavamo riparlando di demografia allora quando dici futuro lui ha scritto un altro libro che si chiama italiani poca gente e parlando delle cose che si cominciano oggi a dire che facciamo troppo pochi figli e c'è uno studio della Banca d'Italia uscito tre settimane fa quindi recentissimo che mostra la curva di discesa della popolazione giovane in Italia e in Europa nei prossimi venticinque anni nel duemila quarantacinque perché nella demografia contrariamente alla politica o all'economia si possono fare previsioni nel senso che se tu in una generazione sai facciamo c'è uno schema molto semplice 1900 mediamente le famiglie italiane quattro figlie 1930 tre figli 1960 due figli oggi oggi un figlio e si va verso meno di un figlio ci sono i figli dei immigrati che sono invece in un mezzo allora questo curvo mostra una discesa rapidissima cioè noi perderemo in 25 anni il 20% della popolazione attiva tra 15 e 64 anni allora cosa vuol dire questo che tu non puoi più rimediare perché come la scala mobile se nell'ultimo noi ogni anno diminuiamo il numero delle nascite a ogni gen i nuovi nati di oggi a loro volta dimezzeranno le loro nascite e se tu dimezzi le nascite ogni generazione cosa succede io ho fatto l'esempio di un mazzo di carte di 52 carte se tu dimezzi ne hai 28 o 26 scusa 26 poi 13 e poi 7 in 3 4 smazzate passi da 52 a 7 e gli altri chi sono perché la popolazione non sceglie così sono tutti vecchi sì come me a me funziona ancora mi pare di sì lo so per quanto parrebbe di sì non so voi cosa ne pensate allora noi si pensa che noi oggi abbiamo già 17.000 ultracentenari nel 2050 si pensa saranno 150.000 ultracentenari poi ci sono tutti gli 80 mattini che saranno una marea e purtroppo lo sappiamo se vedi queste persone non soltanto non efficienza fisica ma non autosufficienza mentale ci sono queste demenze più o meno gravi che sono in quell'età purtroppo non sono persone che possono far fronte a una società moderna iper industriale iper tecnologica iper cosa avranno perso i contatti con tutto non sapranno loro essere leader del nuovo mondo e saranno sempre più numerosi con una popolazione che diminuisce piccolo esempio attualmente ancora ci sono persone che hanno quelle che vengono dalla generazione dei baby boomer degli anni 60 che oggi sono dei 50 anni 60 che hanno magari ancora due genitori superstiti un genitore superstiti e quindi sono due figli per un genitore per aiutarlo sai che cosa costa un genitore in casa di riposo è uno stipendio ci saranno dei giovani che saranno soli a occuparsi di due genitori superstiti e cosa faranno? tra l'altro non avranno più la pensione loro perché i giovani che gli versano i controlli non ci sono più ci sono gli estero monetari ma non saranno ricchi tanto da poter versare dei contatti contributi per pagare delle pensioni alte lì si va verso un modo dove si dovrà lavorare molto più lungo dove bisogna restare l'efficienza quindi insomma questo è il futuro ma vero no fantascienza ci occupiamo di questo io dico sempre quando passo davanti a dei giardinetti con gli scivoli le altalene i genitori con i bambini due tre quattro anni ma voi sapete cosa aspetta questa gente di questo futuro vogliamo occuparci allora tu vedi che questo studio della banca d'italia la linea discendente diciamo è così per l'altra parte è così per l'Europa ed è così per l'Italia l'Italia è l'unico paese in Europa che ha un crollo delle nascite e non ce ne occupiamo io ho scritto undici anni fa un libro intitolato perché dobbiamo fare più figli citando già tutti questi dati che esistevano non ho avuto neanche una recensione ma non mi importa della recensione del mio libro dico ma niente non interessa ecco quel futuro che non interessa ma il futuro è quello che succede anche col cambiamento climatico allora tu dicevi prima che per come siamo fatti per il nostro cervello che ancora insomma è il frutto del cervello dei cacciatori raccoglitori insomma che vive nel presente che deve rispondere al pericolo immediato quindi abbiamo un cervello che naturalmente tende a stare nel presente però poi noi abbiamo la cultura abbiamo abbiamo costruito una società per esempio abbiamo costruito la scuola è questa dimensione che dovrebbe aiutarci a pensare per il futuro no? Sì ma guarda la nostra cultura se tu guardi bene è rivolta molto più verso il passato le pagine culturali dei giornali la scuola l'informazione tutto quello che permea in fondo anche la vita della letteratura del teatro e non guarda non guarda al futuro guarda parte del passato la scuola storia storia della filosofia storia dell'arte greco latino tutte cose che è un passato straordinario mica dobbiamo buttarlo via certo però aggiungi qualcosa che riguarda il presente no noi abbiamo avuto una rivoluzione negli ultimi cento anni che ha scartilato completamente la società tu pensi quando è nato mio padre gli analfabeti in Italia erano il 70% mio padre sto parlando di l'impero romano quando io sono nato la speranza di vita era 52 anni io sono arrivato a 90 e ogni anno ho guadagnato tre mesi perché poi quando si pensa al futuro ci si guadagna l'analfabetismo era ancora al 20% c'è gente che nasce anche scrivere la firma io ricordo non ero in Italia a quell'epoca però il maestro Manzi ci sono dei filmati se tu vedessi gli allievi del maestro Manzi sono persone che vengono da un altro mondo anche delle facce antiche scolpite dalla fatica dalla sofferenza dal sole dal lavoro di persone che volevano se non altro leggere una lettera scrivere non diventare colti diventiamo questo che poi sapere l'analfabeto l'analfabeto non vuol dire essere colti sapere leggere e scrivere allora la televisione è un mezzo che arriva ovunque in modo molto pervasivo capillare sarebbe l'ideale per raccontare queste cose quello che noi tu stai facendo alla radio io in televisione purtroppo sono cose che hanno un po' episodiche eccezionali in fondo noi diciamo nove puntate l'anno dal 26 giugno mercoledì in prima serata era i uno centinaia migliaia di ore allora si dicevi prima il cervello del cartellatore del recogliatore allora io ho scritto molte cose sul cervello che ovviamente è l'argomento più straordinario rapidamente tu queste cose le conosci ma è bene anche sempre un po' ricordarle che noi abbiamo una macchina che è composta che è molto recente tra l'altro e andate a vedere esattamente la configurazione generale è simile a quella degli animali superiori ma anche di quelli un po' più giù sai che geneticamente noi abbiamo 50% di geni comuni con la banana anche con la cipolla vuol dire che due banane fanno un uomo ma comunque siamo costruiti con gli stessi geni la struttura cerebrale cioè corteccia sistema limbico vi do l'allungato è uguale in tutti i mammiferi con proporzioni diverse cioè questa corteccia noi ce l'abbiamo un po' più sviluppata e altri diciamo dello scimpanzee molto di più allora però abbiamo questo nucleo forte che è quello arcaico che ci fa reagire sulle cose importanti pericolose in realtà è cercare una preda o evitare di essere predato preda nel senso anche insalata oppure è qualcosa che ti fa vivere tutto quello pericoli gioie tutta la nostra vita è fatto di quello il giornalismo è fatto di quello se tu guardi il telegiornale manchi i giornali giornali un po' meno perché c'è tutto un discorso un po' lungo ma quali sono i grandi titoli sono crisi e polemiche accoltellamenti incidenti incendi morti personaggi oppure amore canzoni cose gratificanti sport e di fatti si dice che in fondo i grandi titoli giornali si fanno con cinque esse sangue soldi salute sport scandali sesso sesso però se nella grande informazione il sesso non si fa molto perché il grande pubblico non ama molto ogni famiglia se ci sono emozioni noi lo vediamo in televisione o ore tardi e cosa vuol dire questo? che siamo fortemente condizionati dalle emozioni io ho avuto una grande esempio una grande lezione di giornalismo quando ho cominciato a fare il mio lavoro alla radio 1952 come giovane cronista al mattino alle 11 c'era un collegamento da Roma con tutte le sedi RAI radio non c'era ancora la televisione per la scelta dei servizi della sera c'era il caporedattore da Roma Carlo Bonciane che chiamava Venezia Milano Torino Genova per chiedere cosa avete per radio sera stasera arriva Genova e dice cosa avete per stasera per radio sera e il cronista dice bah era il 52 Genova produceva navi le ricostruzioni avremmo un varo e il caporedattore da Genova dice Sandro te l'ho già detto il varo interessa se va male allora le cose interessano se 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 vanno male se le cose normali non interessano e quindi noi non reagiamo su siamo poco ragionevoli siamo più motivati dalle cose emotive e tutto il sistema funziona così premi e pulizioni io pulito un libro proprio sul fatto di che noi cerchiamo di ottenere dei premi in senso lato gratificazione di vario tipo e di evitare delle cose sgradevoli e le punizioni e purtroppo gran parte delle cose che stiamo parlando se non entrano nel campo visivo immediato tu non reagisci bisogna simulare un rischio un pericolo che verrà non verrà intanto vediamo la giornata Piero proprio partendo da questo dalla difficoltà che facciamo ad accollarci il pensiero del futuro il problema o il pericolo del futuro perché oggi ancora la figura dello scienziato provoca in alcuni casi scetticismo provoca diffidenza oppure una reazione all'autorevolezza della scienza cosa c'è che non funziona in alcuni casi poi facciamo degli esempi secondo te ma perché la scienza non la si conosce e quindi gli scienziati appena come delle persone che hanno un potere in mano ma che tu non riesci a controllare quindi si pensa sempre che dietro ci siano dei complotti poi lo sappiamo dal campo della medicina dei farmaci della scienza eccetera ci sono sempre l'idea che ci sia qualcuno che cerca di fregarci da qualche parte ora a volte è così ma non gli scienziati gli scienziati bisogna capire una cosa e capire cos'è la scienza e la tecnologia sono due cose completamente diverse gli scienziati non inventano niente gli scienziati scoprono cosa vuol dire che scoprono delle cose che già esistono Einstein ha scoperto la relatività ma la relatività esiste da sempre è lui che ha trovato il modo di codificarla ma queste leggi esiste Newton ha scoperto la gravitazione l'universale ma questo esisteva mica deve aspettare Newton perché esiste gli scienziati scoprono soltanto non fanno nient'altro quindi la scienza è conoscenza punto basta la tecnologia prende lo che è spunto la conoscenza da queste nuove leggi che sono utilitaristiche per fare macchine contro l'università anche farmaci la medicina è una tecnologia la ricerca medica è scienza cioè di cose di scoprire scoprire come avviene una malattia poi ci sono altri che cercano di trovare strumenti per contrattarla quindi la manipolazione se avviene non è a livello di scienziati i scienziati fanno altro che aprire dei coperchi e vedere cosa c'è dentro allora tu puoi dire sì c'è naturalmente a questo punto subentra il terzo elemento che è il controllo della tecnologia allora se la gente è ignorante a cominciare dai politici che non si occupano di questo perché non possono saperle queste cose a me è colpito che negli Stati Uniti c'è il momento che il congresso cioè i parlamentari hanno un ufficio che si chiama OTA Office for Technological Assessment per il controllo della tecnologia delle sue applicazioni ci sono esempi in cui è intervenuto per evitare per impedire nuove tecnologie come per esempio l'aereo supersonico la Francia aveva fatto il suo Mirage no come si chiama Concorde che andava a New York se si fa colazione a Parigi pranzo a New York e cena a Parigi gli americani avevano un progetto che è stato proibito perché inquinava gli strati alti dell'atmosfera ecco quindi è vero che queste cose funzionano poco perché poi gli interessi sono troppo forti e travolgono però per dire il controllo deve essere fatto tutta la politica ambientale è quella è quella di arginare certe tecniche oggi lo vediamo in continuazione bisogna abolire i sacchetti di plastica bisogna abolire tutta una serie dell'arbesto non parliamo poi la cosa curiosa che io quando ho cominciato a fare questi documentari televisivi negli anni 60 quando andai al centro di Lione di oncologia quello sul tumore la ricerca sul tumore dove tra l'altro poi il direttore era Tomatis Tomatis era il mio compagno di scuola al mio al liceo al liceo alle scuole elementari tu pensa che siamo rimasti amici per tutta la vita ogni volta che veniva a Roma veniva da me e mi raccontava un po' di cose perché poi se vuoi apriamo una parentesi curiosa però finisco prima quella finiamo prima perché lì chiesi ma quali sono gli cancerogeni sicuri ce ne erano 13 allora tra cui l'amianto da allora hanno continuato a fare le coibientazioni con l'amianto tu vedi che quanto spendono adesso per buttare giù le case a cominciare dalla DEAR io stamattina ero il centro di produzione RAI la DEAR hanno dovuto demolirla ricostruirla perché ma anche via le mazzini aveva il suo ma le mazzini non sono ancora ma sono lì allora voglio dire se non sei al corrente di queste cose vedi come tutto questo poi diciamo per Tomatis Renzo Tomatis è stato il direttore di questo centro di ricerca sui tumori di Lione è stato un grande medico anche divulgatore della medicina è tra l'altro un divulgatore un po' particolare ti racconto un po' questa storia che è anche molto istruttiva noi eravamo proprio amici amici nel senso che poi io andavo anche in vacanza nella sua casa a Trieste perché lui era più origine a Trieste e allora poi ci siamo persi lui è fatto medicina poi io sono partito dall'Italia stato via 13 anni e lui è diventato si è laureato in medicina e poi è andato a fare ricerca negli Stati Uniti a Chicago e in un centro di ricerca dei tumori è diventato un brevissimo ricercatore nel campo dei tumori e ha voluto rientrare in Italia a Torino perché adesso è arrivato là e ha detto ma tu che hai fatto e guarda tutto questo ma con che professore sei? beh non so niente non è riuscito a diventare un ricercatore allora si è scocciato si è andato via è tornato in America ha scritto un libro per Einaudi il laboratorio dove raccontava tutte queste cose raccontava anche quello che succedeva agli italiani che andavano là per avere un piccolo certificatino di non del ricercatore e allora quando lo incontrai a un certo punto e che mi ha detto sai adesso sono vecchio vorrei tornare in Italia dopo tutta una vita passata e dice però se c'è un concorso a Roma e dico partecipa sì ma poi so già come succede tu fai la tua trafila fai come un coloretto mettiti in fila fai la tua domanda partecipa al concorso e lui fece così andando alla posta senza risultato cominciò a un certo punto a chiamarlo dicendo ma guardi forse è meglio che non è forse ha detto per lei questo come mi ha detto che alla fine gli telefonò il presidente della commissione dicendo sa sarebbe imbarazzante perché in fondo nel suo curriculum ci sono poche ricerche come poche ricerche e ma lei ne ha presentate solo ma io ho presentato quelle pesate poi ne ho tantissime altre insomma si è scocciato e ha dico vabbè allora scrive un altro libro ha scritto un altro libro raccontando tutte queste cose tutto questo te lo racconto anche perché in un certo momento mi venne a trovare dice guarda c'era il caso di Bella ricordate tutti la multiterapia di Bella con la somatostatina che alcuni ritenevano si cominciò anche una sperimentazione controllata il problema non era tanto il farmaco in sé era che si chiedeva il riconoscimento per diventare un farmaco pagato dal sistema guarda che c'era tu cosa che mi ha tagliato grazie ecco cosa stavi e per essere rimborsato la Rosi Bindi che era allora il ministro della salute si oppose era l'unico uomo lì la Rosi Bindi e coraggiosamente andò ad apertura a dire no fin quando questa cosa penso che ci furono forse voi lo ricordate molti magistrati che dissero bisogna che sia riconosciuto perché ci sono testimonianze chi lo dice gli viene fuori una cosa veramente importante su quello che riguarda la medicina riguarda la scienza allora il professor Veronesi venne poi obbligato a fare una sperimentazione che non diede risultati e Renzo Tomatis fu autorizzato dal dottor Di Bella di andare a casa sua a guardare dentro il computer tutte le sue ricerche e mi disse tu la roba lì è tutta confusa non si riesce a seguire un'anamnesi la fa lui con due farmacisti lui che poi non ha un po' ricercatori ma c'era ricerche sul gusto del gatto come queste cose di oncologia non erano neanche su però appariva come un medico serio dall'antica onesto e io quando andai a Milano per informare su questa cosa i tessisti che mi riconoscevano mi dicevano ma lei cosa pensa del caso di Bella e io dicevo ma lei cosa ne pensa e tutti e due questi tessisti mi hanno detto quello è Galileo è un Galileo che finalmente ha capito le cose ma è ostacolato perché le multinazionali i professori i baroni questo è il pensiero magico e poi che è quello super che dilaga ma cosa si deve fare come si dialoga con perché il pensiero magico in parte fa parte della nostra vita quando ci troviamo in difficoltà quando abbiamo un grosso problema nel campo della salute accade tutti noi sappiamo che il pensiero magico in certi momenti della nostra vita emerge ma questo a livello individuale è legittimo cosa dobbiamo fare per dialogare con chi vive in una situazione come questa e dice perché non posso provare la cura di Bella magari mi fa effetto come si dialoga e guarda lì allora il fatto che a tutto punto tu legittimi valuta mago perché a me questo mago qui io preferisco l'altro mago legittimi guaritori filippini e forse voi non lo ricordate i chirurghi a mani nude che dicevano e lo facevano di entrare con le mani dentro il corpo tirare fuori il tumore e poi non rimaneva neanche la cicatrice ma come puoi pensare a una cosa del genere c'erano charter voli charter che andavano alle Filippine il mago Silvan Sim Salabin l'ha fatto in televisione l'ho fatto anch'io andando in Israele con un prestigiatore questa è una cosa che nessuno sa io ho fatto il finto paziente e lui mi tirava fuori dalle budella i tumori cioè andato in Israele in incognito è un gioco di prestigio nel senso io l'ho anche spiegato in un mio libro e Silvan mi ha rimproverato dice guarda perché l'hai detto che quello è uno dei trucchi di base dei prestigiatori quando il prestigiatore ti dice guarda niente la mano a sinistra niente la mano a destra fa così e viene fuori un panzoletto ma cavolo deve andare fuori e fa così e più niente e come si fa? eh non bisogna spiegare eh ho capito però adesso siamo arrivati fino a qui quando quando vedi la donna che si alza vabbè dici c'è dietro un meccanismo che l'alza ma se prendi un cerchio e gli passi avanti e indietro eh e come si fa? eh non bisogna piegare allora quello è un punto straordinario aspetta che ti è caduto aspetta che ti è caduto aspetta eh scusate il rumore mi sono molto divertito quando ho fatto questa richiesta andando con un prestigiatore famoso americano James Randy col quale siamo diventati molto amici che ha anche preso con le mani nel sacco o meglio ha smentito grandi professori se vuoi ti racconto un paio di episodi che spiegano bene anche il trucco voglio sapere anche il trucco voglio sapere no quello non te lo dirò mai guarda ti faccio un altro esempio io un po' mi sono mi ero un po' appassionato non appassionato ma divertito comunque una volta d'estate con mia moglie ci siamo divertiti a fare la telepatia lei era girata di schiena dieci metri da me io prendevo la carta di identità di persone e lei diceva la data di nascita ci azzeccava? funzionava? poi con un altro amico abbiamo perfezionato un po' il sistema e io andavo in giro a chiedere delle fotografie che uno aveva nel portafoglio di giornali di settimanali e questo amico lo dice che riveva allora tutti lì a dire eh ma allora c'è la radio c'è lo specchio c'è il complice niente di tutto questo ma allora come fai? e a un certo punto l'ho spiegata ah vabbè allora ah sì come sì allora devi capirlo mai più spiegherò un trucco ho capito però non è che ci puoi lasciare così ah non lo devi capire eh oh è così perché bella divulgazione perché altrimenti quando ti trovi davanti a uno no che dice è Ferragosto facciamo uno scherzo ma uno che viene lì e dice ecco io ti lascio prendere se invece hai imparato a capire come avviene si chiama mentalismo questo cioè i prestigiatori hanno tante specializzazioni ci sono quelli che seguono la tua e ci sono quelli che fanno le cose con le carte e ci sono i mentalisti allora vi faccio questo esempio di questo prestigiatore c'era un un fisico delle particelle in America mi ricordi chiamava Sarfatti che aveva dato per vuolo Uri Geller quello che piegava i cucchiai col pensiero che in realtà era un trucco e aveva fatto una dichiarazione pubblica dicendo che lì c'è qualcosa da capire tra l'altro è uno che lavorava sulla meccanica quantistica cioè il comportamento delle particelle e quindi sì è una cosa che noi capiamo e questo prestigiatore gli scrive dice guardi non è vero Corrile ha fatto un giochetto no 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 non è possibile andiamo a pranzo insieme andiamo a pranzo insieme allora andiamo a pranzo insieme dice io lo faccio anch'io prendiamo per esempio questo cucchiaio ah no questo no adesso andiamo a prendere ecco quello là quel cucchiaio quel tavolo là prende si tac si spezza di qua questo rimane dice e ha fatto una dichiarata cosa smentisco quello che ho detto ho visto il prestigiatore che mi ha fatto la stessa cosa e poi mi ha chiesto ma come ho fatto no questo posso dirlo a me me l'ha spiegato sai come ho fatto siccome questi cucchiai non è che è in quel momento che il fatto avviene è già avvenuto prima gran parte di questi trucchi non avvengono sul momento questa è la cosa che la gente è avvenuto ore prima allora lui era arrivato due ore prima nel ristorante aveva snervato tutti i cucchiai una cosa banale diciamo beh allora allora un fisico ha fatto una figuraccia un altro esempio noi si era sparsa la voce che c'erano degli ragazzi i mini Geller che anche loro piegavano le cose e c'è stata una grande società americana la McDonnell Douglas che è quella che fabbrica motori per aerei che ha detto fosse che fosse che qualcuno poi mentre vogliamo mi storce insomma ha dato all'epoca 700 mila dollari per una ricerca su questi ragazzi e un fisico dell'Ohio ha accettato di un'università e ha cominciato a fare speditazioni con questi ragazzi e alla fine ce ne sono rimasti due e facevano cose straordinarie non solo piegavano cose ma a distanza muovevano nemometri muovevano poligrafi ecco sono cominciati a uscire dei rapporti su questa ricerca e James Randy ha scritto questo fisico guarda stia attento perché questi ragazzini fanno dei giochetti lei risposta il protocollo è molto stretto non possono va bene dice io se vuole vengo a aiutarla no 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 non c'è bisogno passa un po' di tempo Gerard fa una conferenza stampa che casualmente tra l'altro io ho visto perché ero a New York in quel periodo e racconta questa storia e dice e sapete chi sono questi due straordinarie eccoli qua sono due miei assistenti che sono andati là e hanno preso in giro sto professore per due anni e gli fa un altro grande scandalo ah ma questa è una provocazione però un premio Nobel Murray Gellman ha proposto a James Randy per non laureo o non riscalza in fisica perché certi fenomeni si la scienziata è abituata al fatto che le molecole non barano gli atomi le cellule non barano gli uomini si e se vuoi tutelarti da gravissimi rischi come questi devi prenderli esperto è come un gioiello tu dici guarda che bello il gioiello se le sente bellezze lo compra dice no un momento lo faccio vedere dal mio gioiello no il gioiello non lo deve vedere perché fanno così gli esperti non possono entrare insomma morale visto che il titolo del nostro incontro era anche faceva riferimento alle fake news cioè alle bufale siamo sempre in questo in questo in questo campo noi abbiamo ancora un po' di minuti Piero volevo chiederti intanto una cosa che negli anni scorsi ha fatto molto scalpore un modo un'affermazione che tu hai più volte anche ripetuto che è diventata un po' una sorta di grido di battaglia cioè la scienza non è democratica e c'è stato molto dibattito su questo perché in fondo la scienza è un'attività fortemente democratica perché devi fai la tua attività di scoperta di conoscenza ma poi devi condividere e chiunque può dire se ha le prove che quella cosa lì non funziona sì però ecco allora quando si usa la parola democratica tutti sono attenti esatto e quindi non è così in questo caso il termine burocratica e il democratico ha un valore completamente diverso e te lo spiego ok perché quella è una cosa che nasce da una mia esperienza personale puoi sapere che vent'anni fa circa con Gian G. Poli che era uno nostro autore abbiamo fatto un programma sull'omeopatia o meglio contro l'omeopatia per spiegare che come altre medicine alternative non hanno una validazione scientifica quindi nessuno ha se tutti i curi con l'omeopatia sono fatti tuoi ma io giornalista scientifico ti dedico guarda che questa roba qui non è stata validata anzi e quindi abbiamo spiegato come cos'è la biopatia che forse neanche molti lo stanno in due parole lo possiamo spiegare certo e del settecento un medico del settecento non c'era niente medicina aveva pensato che c'erano delle sostanze che combattevano il male con lo stesso male ma creando una reazione nell'individuo e questo può anche andare bene perché i vaccini sono fatti così però i vaccini sono una cosa molto raffinata erano dei strani intruli con il fatto però che la sua idea è che più era diluita questa sostanza più funzionava è come dire che se tu hai del barolo più l'annacqui più è buono insomma che può allora lì questa cosa bisogna ancora oggi se tu in un contenitore metti un centesimo di questa di questa sostanza di novantanove centesimi di acqua poi scuoti cento volte verticalmente poi butti via il 99% d'acqua e gli rimetti in nuovo cioè tutte di quel contenitore e gli metti di nuovo stessa cosa dopo scuoti butti via il 99% e rimetti il 99% vedi la prima succustione partendo da un centesimo arrivi a un decimillesimo poi un milionesimo un centomilionesimo a un decimiliardesimo quando arrivi alla tredicesima diluzione sei sicuro che di la sostanza iniziale ormai non c'è più niente perché il numero d'avvocato lo cosiddetto il numero di molecole limitato che statistica ma lì tu continui 15 20 25 30 40 60 120 lì sei sicuro che non ci sia neanche l'acqua allora questa poi tu imbibisci una pastiglia di quest'acqua che poi è vaporosa e quella è la cura hai dico scusa vabbè tutto può essere perché la magia è che li sa ma se fai le prove non funziona quando è che funziona per la gente ci stava meglio e allora io cito quelli che arrivavano dalle Filippine dopo che erano malati di tumore dicono io sono guarito sto meglio c'era una che cominciava a fare cia 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 e stava lì stiamo perché la percezione che tu hai l'autosuggestione l'effetto placebo così detto è molto potente ma l'effetto placebo non è una cura tu ce l'hai con qualunque cosa ecco insomma come diceva la madre di Michele Mirabella il presentatore e lui mi ha detto che sai mia madre ha detto una cosa che è interessante dice io mi curerò con una medicina alternativa quando mi ammalerò di una malattia alternativa allora questo servizio mi ha valso una serie di denunce di diffamazione da parte di medici omeopati dicendo che ho detto il falso che non era vero e anche che non avevo invitato in trasmissione io mi dicevo godi a dire la loro allora per quanto riguarda la cosa in sé che se vai in un tribunale è difficile fare di queste spiegazioni perché però io mi tutelai chiedendo a un certo numero di alte personalità un giudizio sull'omeopatia la Rita Levi Montalcini scrisse una non cura potenzialmente dannosa perché sottrae a cure valide abbiamo visto 15 giorni fa una cosa esattamente di un bambino malato di otopone che aveva un otite curato da un medico omeopata con l'omeopatia e morto perché l'infezione quindi potenzialmente dannosa Dulbecco perché è molto più lapidario pasticci senza alcun valore e quando una personalità scrive una cosa del genere dove la scienza è tutto molto sfumato Veronesi Garantini tutti quanti e quindi anche i giudici si trovavano di fronte però l'altra cosa che mi venne di cui fui accusato e di non aver rispettato la par condicio perché specialmente alla RAI che è il servizio pubblico su una questione controversa deve far sentire le diverse campane quindi io avevo non avevo temporato ma anche a un principio deontologico giornalistico e avevo invece fatto una un programma che era non era superparte che aveva sposato una tese e come li ha convinti perché questo è un tema ancora oggi allora io gli ho detto guardi la scienza non è democratica nel senso che il mio programma non è un programma di varietà di talk show dove tutti possono dire allora è un programma di scienza nelle riviste scientifiche si può pubblicare solo se si dimostra quello che si dice perché la scienza è questo tu puoi dire qualunque cosa ma devi portare la documentazione che ti permette di dimostrare che è quello che è come lo dimostri dando agli altri l'opportunità di fare le stesse cose e ottenere gli stessi risultati questo non avviene con tutte queste medicine cosiddette ma non ci sono neanche le documentazioni per questo allora anche nel caso di Bella citavo prima che mancavano le cose allora tant'è vero che la società americana dei tumori aveva fatto già tempo fa l'identikit di questi personaggi che propongono cura a cominciare ad aromopatia per i tumori in particolare cioè sono persone che non appartengono alla comunità scientifica alta cioè di persone di alta visibilità altre volte neanche questo è il caso Stamina era uno psicologo si non erano medici non pubblicano su riviste scientifiche che obbligano chi pubblica a passare attraverso il controllo di esperti per vedere se quello che pubblica è vero è attendibile quindi non passano questi riviste si rivolgono subito a televisioni radio trovano sempre un conistra pronto a dire essere la parte dei malati lì poi scattano i parenti dei malati che cominciano a fare dimostrazioni scrivono allora articolo e trovi sempre da una parte una comunità scientifica dall'altra qualche medico che dice qualche omata che dice lì invece no l'inverso e si mette sullo stesso piano uno dice questo la comunità è divisa ma non è vero c'è un metodo che è poi chiaro che divide le cose tu è un po' quando tu pubblichai su una rivista scientifica seria è come se dessi le pallotte ai tuoi avversari per spararti perché devi dimostrare che quello che hai fatto è corretto che gli altri lo possono ripetere che non c'è ripetitività e non hai risultati controllati e questo e questo poi tra l'altro è per questo che nei dibattiti televisivi che ci furono un caso di bella il mio amico Renzo Tomanti stando là quando gli dice vai a dire queste cose e tornò infuriato perché tu non riesci in un'ora di dibattito a spiegare delle cose molto più complicate questo è un problema che abbiamo tutti su questo voglio finire scusa sono dato un po' in giro ma per dire che io disse ai medici se io porto in studio due persone uno dice che la terra è piatta l'altro dice che la terra è rotonda che avete sentito le due campagne decidete voi starei delegitimato io dalla comunità scientifica a fare questo lavoro io devo difendere il metodo la scienza è il metodo se tu non rispetti le regole non puoi arrivare dicendo la democrazia dice che anche io posso dire quello che voglio tutti possono dire quello che voglio c'è una e per quello dici che la scienza non è democratica nel senso che come alle elezioni uno dice di qua l'altro dice di là poi si vede che cosa succede e c'è una battuta che non ho mia ma è molto bella perché spiega questo è che la velocità della luce non si decide a maggioranza per alzata di mano però è stato è stato un bel impegno difendersi insomma ha dovuto lavorarci molto sempre promosse come dire d'assolto persino i ministeri i pubblici ministeri chiedono già la mia soluzione tranne uno che invece mi ha attaccato molto e che era tra l'altro un procuratore generale quindi un altro magistrato e dopo andrei a parlargli e li incontrai e dico ma scusi perché c'era tanto perché io e la mia famiglia ci curiamo con l'omeopatia e funziona è lei che già decide che funziona è difficile questo perché poi le persone mio padre era psichiatra mi diceva che su dieci persone che venivano tre avevano dei disturbi tanti tre cose curabili e altri tre niente c'avevano cose di bubù che poi quelle cose che uscillano che non sono dovrebbero rimanere e allora dice per questi io prescrivevo ACP ACP che cos'è? aspetta che passi saggio saggio degno papà di Piero Angela molto molto saggio Piero abbiamo insomma volevo chiudere questa conversazione perché tra poco più di un mese ci sarà cinquantenario dello sbarco del primo sbarco dell'uomo sulla luna e tu hai deciso di diventare giornalista scientifico eri un giornalista facevi sei stato corrispondente da Bruxelles hai fatto tante cose come giornalista diciamo generale generalista però tu hai deciso di diventare giornalista scientifico proprio dopo aver seguito le missioni Apollo dopo essere stato lì e aver seguito le ricerche che si svolgevano lì alla NASA allora intanto che cosa è successo lì che ti ha fatto cambiare il percorso della tua carriera e poi così poi chiudiamo in allegria se c'è un tuo astronauta preferito sì ce n'è uno poi te lo dirò perché io allora come ti ho detto ho fatto per 13 anni fuori dall'Italia prima Parigi poi Bruxelles corrispondente poi mi avevano chiamato per fare il primo telegiornale condotto da giornalisti perché fino allora erano gli annunciatori che leggevano le notizie e quindi con Andrea Barbato ci siamo alternati per questo nuovo telegiornale delle 13.30 che è stato il primo poi il modello era sperimentale e passato a tutti gli altri telegiornali quando non eravamo in studio a fare la conduzione ognuno di noi due se andavamo in giro per fare i servizi per il telegiornale Barbato tra l'altro capitò di essere a Los Angeles quando uccisero Bob Kennedy e io ero in studio e gli andammo avanti per sette ore e invece a me capitò di seguire il progetto Apollo segui quindi l'Apollo 7, 8, 9, 10 11, 12 a Capo Kennedy di Houston ma io andai molto in giro con tanti documentari andando dalle industrie in tutti i centri della NASA in tutti i centri che si occupavano anche non solo dei danci dell'Apollo ma dello studio perché la NASA a quel punto lì allargò un po' il discorso se vuoi spiego perché le sonde che venivano mandate che vengono mandate su altri pianeti vengono disinfettate come anche sulla Luna per evitare di portare germi terrestri che possono sopravvivere a viaggi interplanetari e quindi ci si occupavano come si stanno occupando queste sonde della possibilità che in altri pianeti su Marte in particolare ci siano stati in origine forme viventi ho scoperto che c'era acqua la bosfera i solchi dei fiumi probabilmente eccetera e c'era un centro che si occupava di questo vicino a San Francisco il centro EIMS e andai lì a vedere le cose e questo scienziato che chiamava Polamperuna ricordo cosa faceva studiava l'origine della vita sulla terra come modello eventuale anche perché si è scoperto che in realtà la cosiddetta chimica del carbonio che è quella nostra infatti è fondamentalmente quattro atomi poi due tutto e si aggaccia che sono ossigeno idrogeno azoto e carbonio e la chimica che trovi nello spazio e trovi molecole organiche formaldeide persino amminoacidi che sono i componenti delle proteine dentro gli asteroidi e quindi è probabile che in tanti pianeti questo signore studiava queste cose qui quindi studiava l'origine della vita l'evoluzione della vita e c'era tutta la grande filiera che portava dal sole al filosofo e cara mia questa è stata una situazione se non sei appassionato di queste cose subito ti appassionate e ho detto queste voglio fare perché c'era poca roba non c'era divulgazione all'epoca c'era dei documentari anche alcuni quindi sei tornato in Italia e hai detto io voglio fare questo sono arrivato in Italia era il 69 questo telegiornale finì almeno la parte nostra a fine luglio proprio con la lancio sulla luna e dice questo io quello che voglio fare da grande cioè lui è tornato e ha detto io voglio fare Piero Angela ed è diventato Piero Angela e così ho cominciato ho fatto subito dieci puntate sulle frontiere della conoscenza dieci di biologia dieci di neurologia e lì se vuoi ti raccontare un episodio curioso che spiega anche come a quell'epoca gli scienziati non erano così aperti alla divulgazione scientifica in una puntata sul sistema nervoso andai in giro a vedere tante persone soprattutto negli Stati Uniti e ogni volta poi componevo già la struttura di ogni programma e una delle scoperte importanti all'epoca era il fattore di crescita nervoso della Rita Levi Montalcini che non era ancora premio nobile allora andai quindi a trovarla a Torino e gli dissi guardi io sto facendo questo progetto ah molto bene gli dissi tutte le persone che avevo incontrato ah benissimo questo sì certo lo conosco bene e poi gli dissi e in questo rambito della percezione noi del sistema nervoso inseriamo i suoi studi sul sul fattore di crescita nervosa e penso di dedicare tre minuti a questa parte allora tu sai che nei documentari tre minuti sono il tempo fisiologico devi spiegare tutto tre minuti mi guardò con questi occhi d'acciaio che fu fulminato di cui fantozzi dice ah non basterà mezz'ora e io terrorizzato tra l'altro è una cosa difficile da spiegare e dico guardi è qui però ah no no arrivederci grazie questo è stato il mio rapporto tra l'idea e le minuti poi ebbi la soddisfazione però di incontrarla qualche tempo dopo in una stazione ferroviaria e lei disse ah io sono in debito con lei ho poi visto il programma ho letto il suo libro e ho capito cosa voleva fare dire mi spiace e siamo diventati molto amici e mi ha persino invitato ad andare con lei al festival di Sanremo per fare raccolta di fondi per la SLA e poi gliela ha dati tre minuti si ha registrato i tre minuti con lei dopo mai più abbiamo perso le abbiamo fatti comunque ovviamente dicendo che questi erano il suo studio ma non l'intervista però ecco questo mostra un po' come c'era anche diffidenza evidentemente anche perché spesso c'erano delle cose non fatte bene da persone che tiravano a campo insomma allora io ho imparato la prima cosa che se tu vai a intervistare una persona devi sapere di cosa si sta occupando conoscere grossomodo le regole del gioco della sua materia capire quello che lui ha fatto e allora quando vai con lui puoi naturalmente mica interloquile però far capire che tu stai comprendendo quello che lui dice e lui lo apprezza non solo ma ti dirò di più che siccome all'epoca in particolare io andavo tantissimi in giro vedevo centinaia di scienziati ogni volta studiando le cose loro quando andavo da uno di questi e lui mi parlava di una cosa e dico guardi c'è uno che sta ah sì gli portavo ultime informazioni di cose che io avevo visto perché in questo mestiere se tu leggi libri dici cose vecchie se tu vai in giro a parlare con le persone dici cose che saranno pubblicate ma che non sono ancora uscite per questo anche nel nostro lavoro andando in giro a vedere le persone noi parliamo di cose che ancora non sono io adesso la porto alla RAI così metto una buona parola per i miei viaggi e mi aiuta ad andare in giro Piero Angelo è il suo astronauta preferito allora il mio astronauta preferito beh ovviamente Armstrong il primo è sempre il primo amore a parte quello c'è una cosa curiosa che voglio raccontare perché è anche un esempio di vita importante negli anni 70 fine anni 70 ricevete una telefonata da un signore che mi dice buongiorno senta mi manda non piccone mi manda Oriana Fallaci e mi dica guarda io sono sotto ufficiale dell'esercito italiano che ha partecipato a una missione in Libia io ho conosciuto Oriana Fallaci e siccome vorrei diventare astronauta vorrei venire a trovare ma lei mi ha detto vai a vedere Piero Angelo allora cosa posso fare io vorrei sapere come si fa a diventare astronauta allora chiedevo ma lei ha una laurea no in scienza no parla bene inglese no russo no era uno piantato però sa il fisico è importante però la voglia anche però ci sono delle conoscenze tecniche perché fare l'astronauta è un lavoro tecnico quello allora gli inglesi una serie di di vabbè arrivederci grandi poi un po' di anni dopo l'asi cioè l'agenzia spaziale italiana presenta il nuovo astronata ma quello lì ma non è possibile Nespoli Paolo Nespoli questo signore qua si è presa una laurea in ingegneria finendo un anno prima degli altri ha fatto tutti i suoi corsi siete guardate che poi gli astronomi italiani sono pochissimi appunto di una zona male insomma è riuscito in questa cosa ha fatto delle missioni importanti ha fatto extraveicolare ha fatto sei mesi adesso riparte di nuovo è stato su a 60 anni che insomma allora ma sei in assenza di gravità e adesso proprio gli danno una laurea in ingegneria e quindi io lo porto come esempio ma quando l'hai rincontrato che lei non ci ha creduto che gli ha detto Paolo Nespoli ma quindi ci siamo rincontrati certo ma lui è un po' taciturno devo dire non è un tipo forse con te perché no ovviamente è così naturalmente ve l'ho detto la mia grande ammirazione per una persona che riesce a fare quella cosa difficilissima è una storia bellissima quella di Nespoli allora io cito sempre Nespoli come incapacità ma ne cito anche un'altra che è legata alla NASA perché la prima volta che andai a Capo Kennedy nel 67 volendo incontrare volevo parlare con delle persone guardai tra i direttori che c'erano negli elenchi del directory e vedo che il direttore del lancio cioè quello che dirige la grande sala piena di computer c'è un nome italiano Rocco Petrone questo qui è dei nostri Lucano di nascita allora prendo l'appuntamento e vedo un uomo massiccio un uomo grande tipo mediterraneo e dico ma scusi lei è di origine italiana risposta sogno di un paese del sasso del gastal da un provincio del potenza ma come allora mi ha raccontato un po' la sua storia che poi è venuta fuori lui era già nato negli Stati Uniti ma era lì da poco la sua famiglia da pochi anni arrivati dal sasso del castal che è un paesino proprio siamo andati poi a filmare le cugine con il vestito nero la pannocchia e aveva la famiglia era povera poverissima sai proprio quelle delle fotografie si vedeva arrivare il padre tra l'altro morì poche tempo dopo la madre lavorava da quanto ho capito una fabbrica di guanti questo ragazzo era intelligente è andato a fare ha cominciato a studiare ha avuto delle porte di studio e sai in America ci sono è vero c'è una forte selezione anche perché l'università costano tantissimo ma ci sono molte porte di studio per ragazzi in gamma insomma questo qui è riuscito a entrare all'accademia militare di West Point è un'accademia molto in Italia di lì ha preso una laurea tipo all'MIT in ingegneria spaziale insomma è diventato aveva queste due qualità militare e ingegnere e quindi ha cominciato a lavorare sui razzi Redstone Atlas erano i primi razzi che poi hanno portato la Mercury quindi lui ha fatto tutta la gavetta tutta la storia e a un certo momento alla NASA è diventato una persona affidabile molto competente è diventato direttore del lancio non solo ma in seguito è diventato il capo di tutto il progetto Luna per cui il capo di tutte le missioni lunari è il number one Rocco Petrone che gli ha risposto come ce lo ripeta sogno di un paese di sasso di Castalda provincia di Potenza allora questo mostra che in un paese dove l'ascensore sociale funziona se uno ci mette il proprio evidentemente ci sono problemi dappertutto però questo lo dico a volte anche ai giovani guardate che se poi volete muovervi bene in questo nuovo mondo così difficile imprevedibile dove però queste cose contano l'impegno personale la capacità non di prendere una laurea così un diploma perché poi poi fai concorso un ponteggio ma dovete cercare l'eccellenza e questa la si fa con tanto il genio è 10% ispirazione e 90% traspirazione cioè tanto lavoro e tanto sudore e i risultati si ottengono lavorando molto poi ci vogliono i talenti individuali ma quelli ci sono in Italia sono pieni di gente persino troppo intelligente ecco quello che noi abbiamo veramente bisogno di sviluppare è un sistema perché fa in modo che queste intelligenze funzionino in un progetto che non siano un po' come le lampadine tu lo sai che i fotoni da una lampadina escono casualmente nel laser sono tutti allineati e la stessa forza la seriologia che tu hai per fare la lampadina o un laser dà dei risultati diversi a noi manca questa cosa specialmente già nello studio la nosticella è troppo bassa poi ci sono centri di eccellenza ma vediamo non può essere ultimi in Europa come risultati scolastici misurati a 15 anni la Germania aveva avuto questo problema simile al nostro ci sono messi di punta per migliorare se tu vai nei paesi orientali diventi matto vedere come studiano questi quindi più istruzione alta e poi progetti bisogna provarci impegnarsi e provarci e avere dei progetti impegnarsi anche in progetti non aspettare che queste cose ti vengano non devi aspettare che anche dei dirigenti ti spieghino tutto quello che devi fare devi già prevederlo tu e suggerire e capire insomma come ha fatto un po' lui tornato in Italia ha deciso di fare Piero Angela e ha fatto una carriera meravigliosa questo credo che sia il messaggio più bello Piero Angela che meraviglia un po' lui Quante altre persone riuscireste ad ascoltare per due ore così senza annoiarvi? Grazie, che onore.